Ciao amiche, Face Gym, siamo tornati con una nuova tecnica, un nuovo modellamento del corpo, una cosa veramente bella. Allora, io userò un olio a rosa moschetta, mi piace l'olio a rosa moschetta, la facciamo la sera, anche prima di andare a letto, perché è una cosa che è molto, molto rilassante, ma serve un olio, serve veramente una crema o un olio molto emollente, perché stiamo per andare ad eseguire un massaggio, un massaggio che stimola la pelle, stimola i muscoli, addirittura può stimolare la ridistribuzione, il modellamento del grasso nel nostro viso, che il grasso si comincia a depositare in modo diverso man mano che invecchiamo e questo cambia anche l'aspetto, ci svuoti da una parte, si inlarga dall'altra parte, l'altra cosa è che anche la struttura ossea può cambiare piano piano. Allora, andiamo a fare diversi movimenti proprio per fare un massaggio. Allora, grappiamo i nostri pugni, li mettiamo sotto il nostro guance e io sto appoggiandomi sul tavolo e applico la pressione, non troppo, ma fino a sentire tutto un massaggio lungo, proprio lo zigomo, ok? Continua ad applicare la pressione, poi comincia a portarla verso fuori e traccia proprio un massaggio. Qua, pressione 5, 4, 3, 2, e poi allargo e senti proprio come i muscoli si distendono, troverai che c'è tanta tensione nella faccia. Ancora due volte, non devi sentire dolore però, io raccomando, non spingere troppo, devi sentire pressione ma non dolore. Su, e ultimo. Anche il respiro aiuto, voglio rassare. Voglio trattarci con amore. Ok, prossimo esercizio. Sempre le pugni, solevo la faccia e traccerò lungo tutto il bordo dei capelli fino all'orecchio e poi scendo giù per il collo e questo aiuta a drenare l'attenzione, ma anche i nostri, diciamo, vie linfatiche, cioè proprio un drenaggio linfatico ve la faccio così. Traccio qua, giù, passo indietro all'orecchio e scendo giù. Scusate. Ok, di nuovo. Morbido, su. Sentirei anche tensione lungo, lungo qua, sentirei tanta tensione, tanti punti dove c'è. Tensione, passo sulla tempie, dietro l'orecchio, giù, fino alla clavicole. Quanto è riposante, però. Ancora. Ancora uno. Ok, adesso incrociamo le dita, ok, poi le dita teniamo i nostri pollici pronti per andare a tracciare, ok, da qui fino alla tempia, ok, sotto l'occhio, proprio tutto l'arco, diciamo, dell'orbita ocolare, ok, così, giù e su. Respira anche, poi senti proprio il massaggio, porta verso alto, vai. Tracciando tutta la tensione muscolare, sollevando, così, massaggiando, sempre con un olio. Ecco, le dita devono assolutamente scorrere. Ancora uno. Ed è molto riposante, a me piace tanto, tanto per questo. Ok, su. Su. Ok, altro esercizio. Sempre con i nostri pugni, ok, da qui cominciamo a massaggiare verso su, proprio la fronte, ok. Massaggio su. Su. E poi allargo e dal proprio, la sopracciglia vado su, stendendo verso alto la fronte. Massaggio in su. Sposto, massaggio in su. Massaggio in su. Allargo, massaggio in su. Senti come proprio si rilassa e si distendono i muscoli. Troverai veramente tantissima tensione nella faccia. Uno dice, mamma mia, c'è delle contratture nella faccia. Ce l'abbiamo contratture nella faccia, sì. Ancora, su. E poi più fuori. Sempre senza dolore, eh. Senso strattonare. Non lasciare scivolare senza strattonare. Adesso. Chiudiamo i pugni, però. Facciamo avanzare le due nocchie. E andiamo a tracciare la sopracciglia verso alto. Sopracciglia verso alto. Facciamo proprio una alla volta, così possiamo concentrare a meglio. Ancora. E nell'altra parte, le due nocchie che tracciano proprio la sopracciglia. Guarda in basso, ma tiri su, traccia la sopracciglia e tira in su fino alla tempia. Tempia ha tantissima tensione. Anche un trigger point. Senza esagerare. Ultimo esercizio per sollevare la pelle. Sempre prendiamo le nostre nocchie e facciamo piccoli movimenti dalla bocca fino all'orecchio. come se stessimo dando piccoli tweak. Ancora. Tutto rilassata, senza applicare nocchie o forza. Semplicemente per drenare, tonificare, stimolare. Per l'altra parte. E' normale che se la coordinazione con la mano non predominante è un po' più difficile, normale. Anche qui senterai lungo la mascella tensione, perché comunque se digrigni i denti o sei stressato puoi avere tanta tensione nella mandibola. Ancora. Ancora uno. Adesso. Mane su collo. E massaggio verso fuori. E finiamo proprio con un relax totale. Mettendo proprio a distendere tutto lo stress. Tracci tutto lo stress. Giù. Per brenare le vie lenzatiche. Brenare lo stress. E rilassati. Allora, un altro face gym è andato. Spero che vi è piaciuto. E vi vediamo sempre qui su Now. Passate una giornata splendida. Baccia della G. E vi vediamo anche qui. Grazie per la visione!